allora recap abbastanza veloce del della nuova patch che uscirà oggi alle 15 sia su tarkov che su arena la prima parte che andremo a vedere quella di arena quindi sincronizzazione di tarkov con arena come avevamo visto nella prima parte della roadmap aggiunta la sincronizzazione preferiti gioco tra tarkov e arena i progressi del giocatore sono sincronizzati tra i due giochi per i seguenti elementi livello del personaggio valore di reputazione del nuovo trader ref il pelatone impatto delle skill vabbè livello delle skill carisma la skill carisma in tarkov influisce anche su arena quindi sconti per trasferimenti le nuove opzioni che avremo maestria delle armi come vi ho detto prima su arena non c'è un progresso delle maestrie delle armi ma nonostante ciò lo avremo su tarkov giocando su arena resette del profilo si potranno azzerare i profili anche di arena per la modalità pv e sarà disponibile come abbiamo visto nell'ultimo video in futuro quello che non si azzera come su tarkov non si azzerano le ore di gioco gli achievement quello che non si azzerà su arena sarà il rango gli arp e i preset sbloccati si ci si wiperà tutto il resto nuovo trader ref l'abbiamo visto anche nel nel video precedente viene aggiunto in arena verrà aggiunto anche sul tarkov ci arriveremo dopo ref ci fornirà dei servizi di trasferimento da arena a tarkov possiamo trasferire rubli gp coin e il nuovo item la lega ok medaglia di lega ossia un oggetto appunto si applicano i limiti di trasferimento generale in base alle lezioni di script on tarkov arena posseduta ci saranno ovviamente le commissioni come vedete qua sotto 20 per cento dell'importo trasferito in rubli il 5 per cento del valore degli oggetti e le tariffe e le tariffe vengono ridotte appunto come abbiamo detto prima in base alla skill carisma inizialmente il nuovo trader sarà bloccato per sbloccarlo dobbiamo completare la quest easy money parte 1 da skier e alcune missioni potranno essere completate su arena come avevamo immaginato tutte le missioni potranno essere accettate solamente su tarkov e anche le ricompense si riscatteranno solo ed esclusivamente su tarkov avremo anche su arena le tasche giornaliere tre al giorno più una settimanale come tarkov le tasche saranno di eliminazione quindi in una mappa specifica modalità di gioco armi classi quello che è vittoria della partita e vittoria dei round le ricompense per il completamento delle tasche includono esperienza che si applica ad entrambi i personaggi rubli gp coin reputazione del trader per le tasche più difficili qua dice e il nuovo item la lega i limiti delle tasche su arena saranno separati indipendenti da tarkov la sostituzione delle task sarà disponibile anche su arena ma ovviamente ad un costo inferiore rispetto a tarkov la tipologia delle ricompense varierà in base al livello del del personaggio e alla difficoltà delle task come anche su tarkov viene aggiunto anche lo stash su arena 10 per 300 slot sarà disponibile nella nella schermata task karir e nella scheda service del nuovo trader sempre su arena viene aggiunta l'interfaccia delle task per tenere tracce di progressi come su tarkov fuori delle partite schieda task del nuovo trader e nella schermata karir durante la partita scheda task nella schermata del personaggio accessibile premendo tab notifiche sempre le modalità di arena modalità shot out 2 per 2 e 3 per 3 sono state disattivate nelle partite normali e classificate per ulteriori sviluppi ma sono ancora disponibili nelle partite personalizzate adesso abbiamo finito con arena passiamo a tarkovio nuovi contenuti nuovo trader appunto nuovo trader ref noto anche come the host su tarkov per sbloccare ref bisognerà completare la prima quest di skier easy moyne parte 1 il trader non sarà disponibile o visibile al momento in modalità pvm l'invento di ref comprende armi ben moddate moderare per le armi armature piastre elmi zaini pacchetti di munizioni contenitori quindi key tool matt case grande grande case eccetera eccetera oggetti utili per il crafting per la costruzione del layout pistola di segnalazione relative munizioni chiave per le stanze dei gladiatori dell'arena oltre che i gp coin e gli oggetti rari e di grosso valore possono essere scambiati con le medaglie lega che si ottengono tramite le task quelle un po più o più difficili su arena cosa acquista ref munizioni armi mod di armi il prezzo di acquisto aumenta con il livello di reputazione del trader servizio di trasferimento oggetti oggetti possono essere trasferiti da tarkov a arena rubli gp coin medaglia lega anche qui avremo delle commissioni rubi 10 per cento oggetti 5 per cento commissioni sono ridotte come al solito dalla skill carisma che sta prendendo piede ultimamente trasferimento di oggetti rubli da tarkov a tarkov arena non è disponibile finché il trader ovviamente non viene sbloccato il trasferimento da tarkov arena a tarkov invece sarà sempre disponibile gli oggetti da arena verranno trasferiti su tarkov tramite il sistema di messaggistica nuovi oggetti arm band speciale arena marchio del campione apoc tactical wasteland gladius arma da mischi appartenuta ad un famoso campione di arena nuovo pouch teta quello che abbiamo visto nello scorso video 10 slot 2 per 2 1 per 2 1 per 2 1 per 2 nuovi oggetti possono essere ottenuti come ricompensa o potranno essere acquistati completando la serie di missioni a quest line di ref modifiche i gp coin ora sono impilabili quindi li potete staccare fino a 20 il valore di gp coin è sceso da 20k circa 20 mila rubli circa a 7 e mezzo i gp coin non possono essere venduti a fans o altri trader gp coin non possono essere venduti sul flea i gp coin non possono essere scartati dall'inventario quindi in caso voi provate a scartarli verranno distrutti come le chiavi e gli altri oggetti gli oggetti precedentemente scambiati con altri trader in cambio di gp coin sono stati spostati nell'inventario di ref quindi gli scambi che conoscevamo vengono spostati su di lui questo lo sapevamo già viene aumentato il 20 per cento il limite personale di oggetti comprabili dai trader per i possessori di e o di edge of darkness e anche per quelli che hanno fatto l'upgrade alla della nerd edition passando dalla dalle od infine viene aggiunta anche la possibilità di personalizzare il beige del profilo e il colore del nickname nelle impostazioni in base alla propria edizione di gioco per concludere inoltre nikita ci fa vedere su su twitter fa vedere anche il giacchetto di cultisti questo è con il cappello il cappuccio tirato su questa la versione col cappuccio tirato giù praticamente è lo stesso vestito del del prete che vediamo in gioco ogni volta e questo invece come si vedrà con con l'arma in mano in gioco questo è tutto raga io ho raccolto circa 750 gp coin per avere la possibilità di farvi vedere tutto dal vendor se c'è qualche scambio conveniente se c'è qualcosa di nuovo da provare quella chiave in particolare quindi livelleremo il vendor il più velocemente possibile citerremo i bitcoin anche perché non si possono più vendere vedremo tutte le novità oggi dalle 15 quando la pace sarà out fino a questa sera e ovviamente anche nei prossimi giorni che vi ricordo sono in live dalle 10 del mattino fino sempre a tardo pomeriggio tarda serata un saluto ciao